L'energia viene trasformata in movimento ovunque e continuamente. Acqua. Tutto in natura dipende dall'acqua. Serve per dissetarci e lavarci. Ci aiuta a fabbricare prodotti, a produrre alimenti e a generare energia. Ma troppo spesso lo diamo per scontata. Quando apriamo il rubinetto, non pensiamo al lavoro necessario per depurare e trasportare quell'acqua. Azionamenti e motori invisibili operano nella nostra vita quotidiana, assicurandoci acqua pulita in ogni momento. Sono gli eroi invisibili che si prendono cura delle nostre acque. Consentono di spostarci, produrre, crescere e prosperare. Ma per fare tutto questo serve energia. Molta energia. E con l'aumento della popolazione, dell'urbanizzazione e degli standard di vita, ne servirà ancora di più. Al tempo stesso, per combattere il cambiamento climatico, dobbiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Al tempo stesso, per combattere il cambiamento climatico, dobbiamo ridurre le emissioni di un'urbanizzazione e di un'urbanizzazione e di un'urbanizzazione e di un'urbanizzazione.